Sì, diciamo che vorrei dire che sono stata contenta della stagione dell'anno scorso nonostante tutto e chiudere il capitolo e ora parlare appunto di quello che sarà il futuro. Abbiamo iniziato oggi, ci siamo un attimo in vista, abbiamo fatto qualche test, siamo pronti, la parola d'ordine è lavorare e siamo sicure che nessuna di queste ragazze si tirerà mai indietro perché l'obiettivo è ben chiaro per tutti, quindi si lavora in funzione di quello. Insomma, è stato detto da tutti, l'obiettivo è ben chiaro nella testa anche vostro, quali sono le potenzialità di questa squadra con le ragazze e la rosa che è stata creata insieme a voi? Le potenzialità sono infinite e sono in rapporto a quanto riusciremo a mettere in atto del lavoro che si farà nel corso di tutte le settimane. Abbiamo una rosa molto lunga con giocatrici giovani ma fisicatissime, giovani ma super tecniche, abbiamo una grandissima varietà di giocatrici e questo ci porterà inevitabilmente a poter sfruttare sotto tutti i punti di vista le caratteristiche della squadra e del singolo, appunto consapevoli di quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quanta voglia hai di lasciare il segno quest'anno proprio qui? È tanta, davvero, vorrei proprio poter coronare un'altra promozione qui che avrebbe sicuramente più valore rispetto alle altre, vorrei farlo dando il mio contributo, non necessariamente da protagonista in senso di prestazione o di punti, ma più che altro da tutte insieme e dando un po' quel segno che volevamo lasciare anche in passato, non siamo state riuscite a farlo, ma quest'anno non ce lo faremo scappare. Grazie. Grazie Giulia.